Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersy. Io sono Stefano e qui con me c'è Pietro. Ciao! Pietro oggi indossa la maglia home dell'Italia a Euro 2020, se vogliamo Euro 2021, come andò ci ha giocato. La versione che vedete è la versione fan o replica, quella cioè un po' più economica. Questo peraltro è il kit per i bambini. Tra le altre cose in questa versione lo stemma è ricamato e il logo sono ricamati, è ricamato anch'esso. Nella tradizione italiana la prima maglia è azzurra e in questa versione davanti potete trovare degli stemmi che ricordano l'epoca del rinascimento, dei motivi. Il colletto e le maniche, le rifiniture delle maniche sono invece blu scuro. Questa maglia nella mia personale classifica merita tre stelle che però in virtù della vittoria a Euro 2020 diventano cinque. Prima di lasciarvi alla visione vi ricordo di mettere un like al video ed iscrivervi al canale. Se avete dubbi o volete lasciare la vostra opinione scrivete un commento, sarò felice di rispondervi. Buona visione! Quella che vedete è la versione fan. In questa versione, che usa materiali un po' meno tecnici, lo stemma dell'Italia e il logo della puma sono ricamati. La prima maglia dell'Italia, come vedete, è tutta azzurra. Frontalmente c'è questo motivo, che richiama l'epoca rinascimentale, che arricchisce la maglia, molto bella secondo me. Il colletto è blu. Sullo retro del colletto c'è la scritta Italia con la bandiera italiana. In questa versione della maglia abbiamo applicato la patch degli europei e la patch della UEFA. Il retro della maglia è completamente blu. Qui non è presente quel motivo rinascimentale che c'è sulla parte frontale. I pantaloncini sono bianchi e anche qui lo stemma puma e lo stemma dell'Italia sono ricamati. Vi è piaciuto il video? Spero di sì e spero di rivedervi presto al prossimo appuntamento. Ciao! Ciao! Ciao!